Matteo, una corsa al Tour delle Alpi davvero dura, molto difficile? Sì, una delle corse più belle dell'anno, qua nella regione a cavalco tra l'Austria e il Trentino, dei paesaggi mozzafiato, salite stupende e non vediamo l'ora di correre. Le tue gambe stanno già rispondendo bene? Sì, ho finito il Giro di Sicilia l'altro ieri e adesso siamo qui, pronti per far bene con la squadra al Tour of the Alps. In una squadra in cui hai un ruolo diverso rispetto all'anno scorso, qui hai molta più libertà di giocarti le tue carte? Sì, è un ambiente nuovo, siamo tutti molto motivati e cercheremo di onorare al meglio la corsa e di portare a casa il miglior risultato possibile. Corri per la generale, cercherai le tappe o dipenderà tanto dall'esito della prima tappa domani che è già una prova selettiva? Ma vediamo giorno per giorno, già il primo giorno è abbastanza dura e già lì si delineerà un po' tutto e l'obiettivo per noi è far bene con la squadra e cercare di puntare alle tappe. Grazie